ma che cosa sta mai succedendo amore vuoi l'unicorno? beh la mamma lo vuole te lo vinco io si è fissato ma quando arriviamo l'unicorno tu ridi eh tu hai detto che mi prenderi l'unicorno te lo prendo promesso quindi si è intrippato ragazzi adesso si è fissato che deve prendere l'unicorno dai vabbè mi accontento che sali su quel cavallo dopo la bimba niente si è intrippato ma non riesce non mi sento più sto prendendo le misure vi ho detto che vi facevo i video per farvi vedere cosa fa ecco basta adesso sta prendendo non lo so cosa sta facendo basta ci hai rinunciato adesso sali su questo cavallo che cosa hanno fatto e come hanno trascorso la fantastica giornata assieme sono due ragazzi fantastici sono due ragazzi fantastici parliamo di Sergio Dottavi il surfista e Greta Rossetti i ragazzi stanno sempre assieme e non perdono un attimo per trascorrere il loro tempo tra coccole divertimento e allegria vediamo in questa clip come hanno trascorso oggi la loro giornata c'è Greta che fa il tour de france e anche pantani coppi partali proprio è partita è arrabbiata perché loro hanno le biciclette dell'hotel la mia bicicletta invece è elettrica e l'ho data a Sergio io non vado così e Greta guardate dov'è non so se la vedete è lì in fondo un personaggio dove corri? i giapponesi dicono fermiamoci un attimo e arriveremo prima lei no si è fermata si si è fermata in sala giochi alla pista nelle sala giochi noi siamo quelli che nell'equatore vediamo non la sa non la sa non sai che è Antaro? non sai che è Antaro? Antaro uno scappa la venta destra uno la supercazzola no? ma la paillarde c'è prende in giro la prende in giro la Antaro la ragazza che sta a prendere l'ordinazione una paillarde e lei una paillarde che cos'è? si fanno solamente le piadine insomma tutte cose così e lui è andato in giro la paillarde vi è piaciuto il video? bene allora iscrivetevi qui al canale e mi raccomando non perdete il prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.